Oggi siamo a Padova nella cameretta di Gaia, sono venuta qui a fare una super sorpresa e in più le ho portato anche i biglietti per andare al cinema a vedere Playmobil The Movie in uscita il 31 dicembre in scappo. Ciao, salve, io sono Gaia e al 3 novembre faccio 11 anni e arrivo a Padova. Vorrei che tu venissi qui perché io ti savo tanto, faccio ginnastica artistica, ho un cane che si chiama Kira e mangia grasse, ti voglio bene sabri, ciao! Voglio vedere nel banco da te, magari è caduta una propietta di polvo. Ha 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 ha! Piscala porla! Piscala! Piscala per me, mi la faccio tutto, te lo juro! Sì. 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 Hai paura di me? Sì. Ciao amore. Ciao. Stai bene? Sì. Sei felice? Sì. Posso far entrare tutti? Sì. Sei sicura? Sì. Allora chiamali di tutti. Così almeno svegliamo un po' i vicini. Aiuto! Che cosa vuole? Poter offrire il panino francese. Pelati non mangiano. Ti faccio vedere come non mangio. Non mi fai mangiare. Cinna. Ma tu l'hai mangiato? È una rubona. Come prima cosa andiamo a fare il tour della sua. Tu hai in realtà tu mi hai due di cameretta. Prima di tutto vorrei farvi vedere il fantastico color rosa tenda. Perché c'è un gesso. È una ruota al viaggio. Facendo cosa? Una ruota. Ma come hai fatto? In palestra, a scuola. Ho fatto una ruota e in coltessi sono scivolata. Poi abbiamo l'orsetto dove io ho nascosto una videocamera. Qua hai i libri di scuola e qua dei libri che ho comprato però che non leggo. Dei libri che ho comprato però che non leggo. Dobbiamo fare un po' di compiti. Dammi un po' di matematica. Che lingue fai? Spagnolo. Spagnolo. Andiamo. Fammi capire. Hai un'altra camera tutta per te. Qua la spalliera. Questo? È il mio body allenamento. E qua fai un po' vedere. Le foto delle mie gare e dei sacchi. Ma guardate un po' qui chi c'è. Sembra un po' io. Sì. E qua sei tu che fai il tuo servizio al corpo libero. Trave. Trave. Ti piace la trave? No. Ah, fantastico. Io penso che in questa casa c'è una trave. Sì. Ma dopo prometti che la posso usare? Sì. Grazie. Compiti. Ok. Adesso ti trasformo in una rana. Ma fai la rana! In un armadillo. Cos'è? Eh, lo sapevo. La prima cosa che vorrei fare con te è un problema. Un cartolaio acquista 12 zainetti. Spendendo 336 euro. Se li rivende a 35 euro ciascuno. Quanto guadagna in tutto? A 336 diviso 12. 35 per 12. 420. Meno. 336. 84. Bravissimo! Diablamos espanolo! Si mette un punto esclamativo al contrario. Perché? Boh, vabbè. Hasta luego! Ci vediamo domani. Hasta pronto! Sarà che è pronta da mangiare. È il telefono. Pronto? Io vorrei giocare un po' con la tua spaliera. Però andiamo rotolando. No aspetta sei pronta? Prima però di iniziare ho una cosa da darti. Direttamente dal mio armadio probabilmente sa anche un po' di ascella. Una felpa per te! A mio schiocare di dita lei sarà cambiata. Pronti? Non è successo niente. Ora tu mi farai vedere degli esercizi e io li copierò. Oh mio dio non ce la faccio io. Cioè ce la facevo quando ero piccola. No dai raga mi fate vuole una figura. Fatta! Tiè! Fatta! Fatta! Tiadimi! Tiadimi! Guarda quanto sono carina! Guarda no? Facciamo una spaccata con la gamba in alto eh. Chi è meglio qui? Laia! No qui io! Ali tu! No io! Dai Ali un addominale solo. Cosa dobbiamo fare? E' normale che sia rosso? Vai! Brava! Allora dovete sapere che noi ginnaste siamo sempre belle dritte quindi queste cose qui servono per tenere vedete le spalle belle dritte e aperte. Mi lancio al prossimo. Che cos'è la grazia della merenda? Eh? Non vi ricordo. Ah le risposte! Aspetta! Jumpy! Ale! Sto a terra! Quello è il prossimo momento? Dopo il tour della trave? Ale! Merenda o l'allestimento? Ale! Però oggi voglio fare una cosa particolare che non ho mai fatto che volevo fare un tiktok. E' la chiusura a Jumpy che cammina sulla trave. Solo camminare. Per la segna. Però devi camminare come abbiamo fatto noi. Se faccio le facce non cado di faccia. Visto che è Natale volevo farvi vedere il bellissimo albero di Natale di Gaia. No. Non è quello. Perché adesso andremo ad addobbare il tuo vero albero di Natale. Vero? Sì. E allora via via battiamo le mani fortissimo e ci sarà qualcosa di super magico. No! Non ho scherzo! Aspetta! Due. Uno. Tre. Due. Uno. Sei. Sette. Otto. Eccolo qui! L'albero ce l'abbiamo. Adesso non rimane altro che addobbare. Esatto! Andiamo ad addobbare. Allora io non so minimamente addobbare l'albero. Da dove si parte le palline belle davanti immagino. Mi piace un sacco questo qua che è tipo la sabina telefonica. Dietro tanto non vede nessuno quindi ne mettiamo niente dietro. Giusto dove? Perfetto! Come perfetto? No! Buttata per terra! Perfetto! Tutta questa fatica di mettere le ghirlande così bene a me ha messo un po' di fame a te no? Sì! Quindi direi super momento! Brava! Ti fa la merenda adesso! Per merenda gaietta ti faccio fare il mio piatto preferito. Vero? I pop corn! Esattamente sì! A me i pop corn piacciono pucciati nel cioccolato. Così ho deciso di fare anche una bella cioccolata salda! Raccolta differenziata! Cos'è carta? Eh sì! Fabri cos'è che stai facendo? Niente! Perché stai facendo con la macchinetta? Non so di cosa parli! E' che per caso hai bruciato gli altri? Li aveva bruciati vero? OIA! Posso far vedere dove sono i pop corn? OIA! Come sono quelli i sabri? Ora dobbiamo creare i nostri addobbi natalizi! Vai! Sei pronta? Abbiamo fatto le nostre palle di Natale! E adesso però che cosa dobbiamo fare? Andarle a fettere! Beh sull'albero mi sembra il minimo! Andiamo! Ora gli addobbi sono stati messi! Siamo state bravissime! Sei pronta? Accendiamo tutto! 3 2 1 Ma è bellissimo! Parti! Siamo state fortissime! Adesso puoi sederti sul divano perché è il tempo di mangiare la nostra merenda! Assoggio la mia ricetta fantastica! Cock corn! Dentro! Inzuppati nella cioccolata! E' BUONI! No perché prima ero sedubante! Buoni! E' BUONI eh! Nel frattempo che leggiamo questa merenda fantastica ti faccio vedere una cosa! Vado! Amo giocare con mio fratello Charlie! Ta 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 ta! Chi è una bella profonda? Chi è una bella profonda? Il nobile cavaliere! AIA! E' il film di Playmobil! E' magico! No Charlie! In pratica loro vengono catabuttati in questo mondo e diventano dei Playmobil! In questo mondo niente è come sembra! Chi sei tu? Senti la voce! Sono la tua fata madrina! E' Crescina Vena! E' Crescina Vena! Puoi usare la bacchetta magica per riportarla da me? Io amo tanto Crescina Vena lo sapete! Charlie! Lo troveremo! Conosco l'agente segreto più famoso del mondo! Era il produttore di Il Piccolo Principe! Nessuno verrà a salvarti ragazzino! E invece lui l'imperatore è J-Ax! Si capisce benissimo dalla vocezza! Ma prima ti dovrai convincere di potercela fare! Ieha! Stiamo arrivando fratellino! Quindi la sorellina, anzi la sorellona, deve salvare il fratellino! Odoro, odoro, odoro! Liberate la bestia! Playmobil The Movie dal 31 dicembre al cinema! E quindi il 31 dicembre io ho un regalino per te, la tua famiglia e una tua amica potrai andare al cinema a vedere Playmobil The Movie! Grazie! Un bacio qua! Un altro qua! Un altro qua! Aspetta che ne do uno io! Un bacio dolce alla cioccolata per lei! E se anche voi volete vedere il trailer lo trovate qui in descrizione! Per voi è Natale! Quindi tantissimi auguri di buon Natale! Stavo perdendo! Stavo perdendo! Degli tanti auguri di buon Natale! Tanti auguri di buon Natale! Tanti quanti? Tanti! 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 Noi invece abbiamo registrato il video prima! Quindi ti chiedo chiudi gli occhi, mani avanti! Questo è per te ma non da aprire adesso! Lo metti sotto l'albero insieme agli altri regali e quando arriva Natale per te mi mandi un video! Promesso! Mignolin giurello! La promessa! E allora! Biglietti dati! Regalo dato ma c'è ancora un regalo e quindi vogliamo incaparatore! Così! È arrivato il mio momento preferito! Ovvero il tuo regalino! Quindi chiudi gli occhi! Le hai chiusi? Sì! Giuralo! 3, 2, 1! Puoi guardarlo! Quanto siamo belle! Allora siamo io e Gaia e ovviamente Kira col bastoncino e facciamo la pancata! Ovviamente come avete visto prima che l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta anche qui! Siamo carine? Sì! Quanto da 1 a 100.000? 100.000! Allora Gaia cosa devono fare per partecipare io e la Sabri? Qui sotto! Non dove c'è Kira eh! Nella descrizione! C'è un video! C'è il link al mio video su come partecipare! Andate a vederlo! Mandatemi i vostri video! E cosa devi dire a chi vuole partecipare? Buona fortuna! Perché tu quanto sei stata fortunata? Tanto! Tipo così! Così! Non ci vediamo a gennaio ma riprenderà la prima domenica di febbraio il mio formato io e la Sabri! Qui dove c'è questo cerchio! Non dove c'è il canno! Dove c'è il cerchio! Potete iscrivervi al canale! Qui c'è la playlist di io e la Sabri! E qui cosa c'è? Un video bellissimo! Quanto bellissimo! Tantissimo! Tanto! Tantissimo! Manda dei baci! Ma più forti! Più grandi! Più grossi! Così! Mi sa che non sta mandando i baci eh!